Un Comenius di successo anche quest'anno per l'Istituto Comprensivo Statale San Francesco di Gela diretto da Giovanna Palazzolo. Un percorso formativo all'insegna dell'Europa che ogni anno coinvolge docenti e studenti italiani e stranieri che con il loro entusiasmo vivono momenti di interazione e collaborazione proficua. Questo è il secondo Comenius che la Scuola San Francesco sta attuando. Questa volta abbiamo partner l'Inghilterra, la Germania, l'Olanda e l'Ungheria. Sono presenti i professori e i presidi delle quattro scuole europee più una delegazione di ragazzi. Accade così che giovani insegnanti che arrivano da ogni parte dell'Europa grazie ai fondi che alimentano Comenius apprezzino della nostra Gela le bellezze paesaggistiche e architettoniche, il clima caldo e la cucina. Infatti le scolaresche hanno l'opportunità di esplorare il territorio, visitare il Museo Archeologico Regionale di Gela e scoprirne storie e tesori del passato, ma anche del presente con quell'immenso patrimonio che abbiamo ereditato. Tutti raccontano di un'esperienza fantastica che arricchisce umanamente e professionalmente e che lascerà sicuramente una preziosa amicizia con gli amici di Gela che sono apprezzati tantissimo per il loro calore e la straordinaria ospitalità. Grazie a tutti.